Grazie. Grazie. Oggi faccia un po' addormentata, ieri tutta truccata con l'abito, i tacchi, la madonna, che esagerazione, oggi torniamo alla normalità. Non sarà facile per me raccontarvi e parlarvi di questo argomento, ma spero di farcela. In questi mesi mi sono resa conto di quanto io non sapessi un granché sulla parola e sull'argomento infertilità.